salve a tutti ragazzi e benvenuti insieme in questo nuovo video di metro 2033 redax bene andiamo pure avanti allora volevo cambiare questo fucile perché comunque ormai ma questo è perché non lo uso mai devo provarlo perché sembra interessante dovrei provarlo effettivamente adesso lo provo allora questo lo tolgo perché ho poche munizioni e perché voglio provare questo qui cos'è la cappa questo non lo so proviamo dovrebbe essere la cappa o quante belle munizioni o adesso non controlliamo questo qui adesso andiamo di steltaggine oddio non so esattamente come si allora cerchiamo di andare in stelta perché non voglio fare figure di bene tanto le farò eh ragazzi non è che non le faccio però le farò sicuro andiamo con calma perché non abbiamo fretta cazzo ma quante strade ci sono vediamo un po voglio esplorare un attico è perché non si sa mai cosa ci possa essere e chi ci possa essere soprattutto vedete che c'era qualcosa qui sono tutto pieno 13 questo è un coltello e devo ancora capire come cazzo si usano non lo so pensavo per centrare ma non è così ok vediamo un pochino di usare questo no questo quanto ingrandisce ma più o meno come la pistola più o meno come la pistola era così era così era così così ha capito scusate perché dovevo capirlo va bene andiamo non posso andare ah posso perché a volte rimane in punta di piedi a volte no prima l'ora è rimasto ma va a capire ok proviamo a andare io a qui vorrei spegnere grazie se è possibile e ho spinto cosa che sbagliato copierla come al solito allora vediamo un pochino vorrei trovare qualcuno effettivamente non so dove siano oh c'è un nuovo tabulato scusate eccolo qua ovviamente ne ho persi 8 milioni 950 mila però la pazienza vediamo di spegnere la lusa qui siamo a posto allora vediamo come poter fare oddio vedo qualcuno non farsi vedere sarà dura vediamo un po' l'ho mancato alla grande l'ho mancato alla grande eppure c'era nel mirino eh ok questo è andato e non mi ha visto questo è andato e non mi ha visto e l'altro mi ha visto oh oh rilassata rilassata mi fa tanto piacere che le finite allora vediamo un po' tac ok questo lo prendiamo io penso di farlo in stelta non c'è problema chi è stronto scusa no 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 non aspetta in attico va non vorrei fare una figura di merda più di quella del dovuto eh la farò sicuro vero la figura di merda ce l'ho dietro vero porca vacca eh eh ma fanculo però aspetta in attico ok aspetta in attico vai no l'ho mancato alla grande no 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 è venuta di merda questa vero? eh ma l'estate non è facile niente sono morto ma come cazzo è morto questo? ci sono strati da soli? questa poi vabbè mi fa piacere eh che si sparino da soli ma questo qui è morto? mi sembra morto mi pensa a te oh cazzo mi scusi lei mi dispiace tanto ma come cazzo sei morto? ragazzo fatti vedere che bello farlo in stelta le robo ma cazzo vai perfetto beh qualcuno l'ho ammazzato dai non è data proprio una schifezza totale questo è morto in modo strano ma come cazzo vogliono queste persone? vediamo un po' sono morti cioè quello lì mi è passato vicino perché ho visto che c'era boh io non ci capisco lo volevo fare in stelta eh? si hai visto eh? ho stato bravo eh? accidenti a me ho fatto una cacata detto l'altra però almeno ce l'ho fatta dai andiamo a riprendere un po' di munizioni andiamo a riprendere un po' di roba ce n'è di roba? non è che ce ne sia poca è solo che che non è stato proprio un stelto diciamo ok magari usiamo la k adesso tanto andiamo un po' perfetto così siamo posto tanto il manager è rimasto solo lui possiamo fare anche rumore eccoci qua qui chiudiamo lo spegniamo cioè chiudiamo che cazzo chiudo la luce? si spegne la luce non si chiude allora vediamo oh c'è anche da mangiare vediamo un po' la lampadina la lusa spegne la lusa oh medikit che mi serve grazie vediamo se c'è qualcun altro non dovrebbe essere nessun altro c'è il fuoco con la padella però ovviamente non si può mangiare perché qui non c'è la fame una cartolina lui deve fare colazione però non le prende a quanto pare non le prende bene sembra che ci sia una porta ma ci andrò dopo perché devo ancora esplorare un sacco di cose la lusa no mi serve spenta qui non c'è niente cerchiamo di non farci scappare nulla perché potrebbe esserci di tutto qua c'è stata tanta gente da uccidere ma non ne immaginavo così tanta sinceramente mi dispiace che mi hanno visto probabilmente ammazzando uno ho fatto sì che se ne accorgessero che che insomma è morto e dopo se ne sono accorti tanti saluti l'unica spiegazione che mi viene in mente allora la lusa qui è spenta o è accesa la lusa qui? ok così è spenta ok andiamo pure a vedere tutti gli altri perfetto altre munizioni qui c'è un'altra via ancora che dopo ci andrò questa è una damigiana e vediamo cosa fare madonna quanta gente ho ucciso non c'è nient'altro qui ho preso tutto qui la lusa la posso spegnere la lusa lusa ok è spenta qui altra roba bellissimo ottimo qui c'è qualcos'altro che forse ho già preso qui l'ho visto qua non è una porta questo è un coltello e mi fa piacere prenderlo questo è radio presumo ma non c'è un cazzo non si sente niente la lusa spegniamo oltre almeno so dove sono passato se no è un gran casino qui non penso di farcela ma ce l'ho fatta e qui cosa c'è? un camerino un bagno uno stanzino una zona di riposo insomma sì ok io direi che manca solo un pezzo abbiamo finito tutto meno male insomma qui non c'è niente a meno che non ci sia qualcosa qui cos'è un gabinetto? non lo so una doccia può darsi qualsiasi cosa sia e questo è l'ultimo pezzo dove devo prendere tutta la roba perfetto vediamo un po' se qui c'è qualcosa ma nel dubito a meno che non sia caduta non vedo niente simpatico signore mi spiace tanto averla uccisa non è vero però insomma diciamo di sì e non c'è niente altro io direi e farei in modo che vada con la porta la pistola la pistola ce l'ho sì non so se questa è meglio dell'altra adesso va a capire però comunque sì vediamo no questo non mi interessa questo è tutto a posto poi siamo tutti pieni mamma mia ce n'erano tanti ce n'erano tanti tanti e qui dove eravamo arrivati prima giusto sì che non ho spento le lose però ecco vedete che c'era qualcosa quindi io lo esplorerei un po' meglio finalmente il medikit che mi serviva e questo era quello che eravamo piedi va bene dai è andata bene stavo per morire eh lo ammetto però perché volevo fare un po' il pistola ma non era il caso non è meglio fare con la K sapere che c'è tutta sta gente ce ne erano veramente troppi allora era di qua in fondo e di qua dovrebbe essi perché avevo spento tutto ok andiamo pure e vediamo che succede qui c'è qualcosa non la lose e qui c'è la porta bene andata così così però dai siamo morti hai visto il tizio che hanno appena catturato no e chi sarebbe cosa eeeh va bene aia cioè non sanno bene dove sono eh perché non mi hanno visto ok morto vedete non sanno dove sono adesso si io sanno dove sono per carità no no non sanno il cuore dai andata andata perfetto finchè non sanno dove sono mi va bene a me perché effettivamente la pistola si è iniziata loro vedono soltanto che qualcuno è morto ma non sanno come e io qua tante cose belle beh dai non mi dispiace aver fatto così oddio andiamo di raccogliere un po' tutto mi dispiace che debba tenere per forza spremuto il pulsante per stare accovacciato non è una cosa bella perché con tutti i pulsanti che devo spingere per muormi non è certo la cosa migliore che potesse capitarmi però facciamo pure finta che qui meglio spegnere la lose qui sembrano munizi ma sono armi ma si vede che o sono pieno o non sono armi ok mi fa piacere questa è una pistola silenziata ma c'ho già la mia è possibile spegnere si più lì ci spengo è più probabile che non mi vedano appunto si che sottotiro non sai neanche dove sono sottotiro non ti vedo io mi vedi te allora mi scusi no io questo non so se effettivamente è una persona o qualcuno beh andiamo avanti da chi se ne frega insomma si andiamo a vedere di qua cosa c'è tanto qua non ci sono loro e anche se ci fossero non mi vedono di sicuro ok qui non c'è niente andiamo pure con cautela perché morire è un attico qua eh quindi io andrei molto con parsimonia con molta calma qui spegniamo ok perfetto andiamo di spegnere tutte le losi eccola qua aspetta oh un animalo quindi io non posso entrare qua no non posso entrare qui anche no non posso entrare va bene andiamo di qua e vediamo come fare c'è un buco oh ho fatto un po' non me ne sono neanche accorto io cazzo ma perché non li vedo mai ste cose vabbè andata pazienza insomma si allora qui posso cadere qui posso cadere però posso anche risalire allora vediamo cosa c'è di buono carne medikit perfetto così siamo di nuovo pieni come non qui che cazzo vuole questo ci pacco la faccia io lo sento ma non lo vedo è inquietante la cosa ecco perfetto lui mi ha visto benissimo però in compenso dove cazzo sei ma perché non vedo mai nessuno io vaffanculo dov'è la k eh scusate a certo punto che cavolo non lo vedevo proprio perché loro mi vedono sempre bene e io non vedo mai nessuno ok adesso posso andare posso andare tranquillo ho mattato tutti allora scusate ma proprio non lo vedevo non c'era verso di vederlo allora di qua si va di là io questo però li voglio prendere ok grazie qui vediamo di prendere qualcosa vediamo di prendere questi ok calma e sangue freddo eh perché sicuramente c'è altra roba in giro probabilmente anche altri medikit questa è la porta no porca di quella troia perché mi partono le cazzi senza farmi capire un cazzo ma sei proprio un pezzo di merda sai io volevo prendere la roba ecco perfetto madonna è morto ah è morto si è morto ragazzi e non dice una parola vuoi abbassare l'arma giovanotto oh il mio amico eh io abbassola però volevo prendere tutta la roba con l'ascendo indietro ma non c'è dei figli di troia tipi come lui mi chiamo can si can riesco di lasciare questo posto immediatamente i compagni di questi banditi si faranno vivi molto presto e preferirei evitare altri spargimenti di sangue certo torno alla maledetta l'umidità di questa stazione mi fa venire i reumatismi se preferisci fare la stessa fine del tuo amico beh resta pure no io vorrei prendere un po' di roba ragazzi cioè mi ha chiuso la porta porca troia ma sei proprio un figlio di troia bisogna dirlo eh vabbè andata così andiamo via oh un documento bene vediamo e questo appunto quindi ho perso proprio un fumo bene sono abbastanza contento di aver fatto cacare però insomma si certo che se mi avesse detto che quella era una cazzina l'avrei anche fatta diversamente ok qui c'è qualcosa oh meno un po' di cose beh non ho preso poca roba chissà quanto ne ho persa più che altro vabbè questa non è dove cazzo è andato il tipo di qua cioè tu mi dici se vuoi andare indietro vai però insomma così però non posso fare altro ma va a fa culo va che cazzo eh vabbè ragazzi pazienza mi colse di sorpresa anche se nello scontro con i banditti avevo avvertito una presenza amica nelle tenebre Khan mi assicurò che il mio destino non era legato a quello di Barbo ma mi dispiaceva che fosse morto eh già gli effetti andiamo un po' bene togliamo la cappa mettiamoci la pistola tolchiamo questa cosa che non rimane in giù mi dà un po' fastidio ma probabilmente c'è anche il pulsante ah ecco qual'era il eh la z va fa un culo vedi che ce n'era uno eh vabbè adesso ormai è andata andiamo avanti vediamo un po' che succede di qui non passa mai nessuno ah mi fa piacere ne persone ne bestie non ci sono neanche i topi va bene neanche i topi bestie però ci sono tanti ragni quelli ci sono eh mi raccomando ok più con calma eh no mi raccomando quante quanta calmomila ti sei preso prima di venire con me siamo qui avvicinati ai tubi ascolta ma non fermarti troppo a lungo sono mica conchiglie quelle che ascolti il mare come cazzo ascolto che non mi danno anche da interagire bambini va bene c'è chi dice che sia la voce delle gallerie altri pensano che sia una forma di suggestione si il tuo pizzetto mi inquieta vabbè conosco questa galleria bravo e lei conosce me ah beh avete fatto conoscenza vi siete schiambati i numeri vi invitate a cena ogni tanto questa galleria è pericolosa si faccio attenzione ma io vorrei anche un attico un attico io già ho perso per colpa tua tanto di quella roba che gli venisse un bene e adesso fammi vedere se c'è qualcosa cazzo però che palle quanto mi scoccia ragazzi non avevate un'idea fermati e guarda davanti a te cosa non vederle un altro perdele cosa guarda davanti a me anche c'è il tuo culone non toccare le sagome non toccare le sagome eh è difficile non toccare le sagome senza vedere dove i nostri piedi toccano no vabbè proviamo lo stesso non ho capito chi non debba toccare ecco fammi vedere te cosa fai io sto facendo ecco allora facciamo calma ok ok mamma mia che inquietudine e adesso vai avanti te che mi viene da ridere ok ok va bene scusate ma non si capiva almeno io non capivo poi ho avanti o c'è un documento ti togli il culone dalle palle ok grazie e quindi questo è un'altra cosa ancora i fantasmi va bene mi leggerò anche quelli e andiamo avanti non c'è niente mamma dove sei? io questi li posso rompere sì però non conviene ok per sapere eh culone vai avanti o no? rimane lì è bello vedere i ragni ah si li punto con la torcia vanno via interessante e quindi? fai qualcosa? è rimasto incantato guardate che bello che è ok oh santa miserica ero troppo avanti evidentemente mi va bene ok eh ragazzi non si capiva cioè io per puro caso ho acceso la torcia perché mi sono sbagliato volevo togliere la mappa e ho spinto una volta e mi ci ritenevo molto però cazzo dimmelo spostati Ardion dove mi sposto? a piedi così? è il fantasma? ah che bello che bello ok mi fa questa galleria è costretta a rivivere il passato molte volte e gli sventurati che la percorrono in quel preciso istante di solito finiscono per popolare quel passato ah beh posto meglio così insomma dai ok dovremmo essere a posto io non so quanto mi duri questo accendino andiamo ok scusate ragazzi ma non era capibile facilmente ok andiamo un po' oh ma qui c'è qualcosa madonna santa non si vedono sti appunti ok poi se vuoi so che correre andiamo pure avanti non posso correre ma almeno la luce ce l'ho accesa fermati e guarda davanti a te salve molto tempo fa qui infuriava la battaglia i difensori occupano ancora le loro stazioni cavolo ma non ti allontanare inquietante da paura ma io volevo fare un gioco un po' più tranquillo io mi sto caccando in mano mi sto caccando in mano brom brom si oddio ce l'ho fatta mamma mia che inquietudine preferirei che rimanesse un segreto sono faccende personali amico mio si va bene non so come faccia a sapere questo cose ok abbiamo praticamente distrutto ogni cosa anche paradiso inferno e purgatorio sono stati pulverizzati perfetto così quando un'anima abbandona il corpo non ha nessun posto dove andare e deve restare qui nella metropolitana una punizione dura ma non immeritata per i nostri peccati non sei d'accordo ma non lo so devo proprio rispondere ok non c'è niente che io possa prendere non c'è niente ho già guardato guarda ok no le mosche no grazie e adesso bombolette inquietante come al solito molto inquietante qui non c'è un cazzo ne hai fatto caccare in mano è stato io era già così eh qui cosa c'è vedete che c'è qualcosa oh 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 speriamo che oh non mi lascia da solo cazzo questo piglia va via già mi sto caccando addosso poi questo se ne va anche poi dice oh merda non capisco cosa una porta che non si apre chi è non mi fare che mi capo in mano questa è una porta chiusa si si ho capito ho capito vale ma perché la maschera solo io e lui no concentrati non è che la devo togliere la maschera e mi sto concentrando però cioè non è che devo andare da qualche parte insomma se mi dici qualcosa ma è poca miseria mi ha fatto caccare in mano bello bello fantastico come al solito io faccio caccare a sparare sì ma è possibile che le armi che io io faccio facciano sempre schifo e quelle che hanno gli altri sono sempre bestiali ma vabbè facciamo finta che sia vero questo sventurato viene dalla maledetta evidentemente le cose vanno male laggiù dici no sta tanto bene un caffettino si ripete subito anche lui piccola porca miserica ok abbiamo fatto un po' di cose ok andiamo non è che io ho la maschera no la maschera l'ho tolta scusate ok siamo a posto questo suona perché probabilmente mi sarei bloccato un attico aspetta fatemi vedere esattamente da che parte devo andare devo andare parliamo italiano ragazzi ha salvato io mi fermerei qui avrò fatto un taglio perché non riuscivo a capire come fare un pezzo e vabbè pazienza io vi invito come al solito ad essere un like commento se vi piacere e fammi sapere cosa ne pensate e per adesso vi do un saluto da Sira ciao ciao ciao